Abbiamo visto come spesso succede in casa, alle volte succede per strada, alle volte succede nel posto di lavoro e se succedesse mentre si pratica sport, abbiamo parlato anche di questo, capita e chi pratica sport è esente da questo tipo di problemi o chi pratica sport ha occasione di vedere questo tipo di problemi, allora io ho degli ospiti particolari stasera, chiamo qui con me Rossano Galtarossa campione olimpico di canottaggio e vicepresidente del CONI Veneto, Rossano Sali lo so, lo fa per rispetto verso di me perché io sono piccolino e lui è un gigante e allora per pareggiare chiamiamo Manuela Levorato, un'altra nostra atleta campionessa italiana di atletica e vicepresidente Fidal però in sala abbiamo anche qualcun altro, giusto? Abbiamo altri due grandi atleti, abbiamo Federico Ruzza che è piccolino quindi facilmente uscirà si è seduto proprio in mezzo, vieni Federico, ed Elisa Giordano, Federico è regbista della Benetton Treviso, Elisa Giordano invece è regbista della Valsugana e capitana della nazionale rugby femminile. Mi suggeriscono recentemente classificata per i mondiali, allora io parto con Rossano visto che ho chiamato prima lui Rossano forse a te non è capitato personalmente perché insomma ti conosco da tanti anni però a te è capitato di soccorrere quindi ti è capitato dei momenti in cui quello che avevi imparato ha salvato qualcuno. Ci vuoi raccontare quella volta? Buonasera a tutti, mi è capitato un paio di volte di massaggiare quindi delle persone che hanno avuto un arresto cardiaco e nella prima occasione non avevo fatto nessun tipo di corso, io per lavoro l'ho fatto più volte anche poi richiamo poi ho dovuto prendere anche il brevetto come assistente bagnanti, ho aggiunto un'ulteriore volta e l'ho fatto volentieri perché ritengo sia molto importante ma nella prima occasione in cui mi sono trovato casualmente a bordo di un lago mi è successo per fortuna al di fuori della sfera familiare, al di fuori della sfera lavorativa però ero per motivi legati al mio sport vicino a un lago, a un certo punto sentiamo chiamare e di fatto una persona praticamente era quasi annegata ed è stata portata a riva e la scena era tutti attorno è stato chiamato il 118 e nessuno faceva nulla. Gennaio in mezzo al fango però nessuno faceva nulla e io non avevo fatto nessun tipo di corso però mi sono tra mille dubbi, sbaglio o non sbaglio però ho detto che nessuno sta facendo nulla quindi mi sono chinato e ho iniziato a massaggiare ed effettivamente poi quando è arrivato il 118 le condizioni della persona erano cambiate e poi ho saputo che non è stata sbagliata come scelta, quella di intervenire è un po' distinto nella seconda occasione invece stavo andando al lavoro per strada, pensavo fosse stata una persona urtata da un'auto perché era per terra lungo la strada con un po' a metà tra il marciapiede e la prima corsia e invece aveva avuto un arresto e lì in quel caso ho anche ventilato perché avevo fatto il corso in macchina avevo una pocket mask, è arrivata, si è fermata con me un altro ragazzo che anche lui è assistente bagnanti quindi con il corso, con le competenze per intervento ci siamo alternati e quindi a un certo punto finché arrivava in quel caso anche l'elicottero e quindi è arrivato proprio il 118, l'equipe del 118 abbiamo massaggiato alternandoci, abbiamo anche ventilato. In quell'occasione, perdonatemi se non so il nome dello strumento, però io sono due metri per un quintale e quindi è normale che tante persone abbiano paura di far male di far danni, giusto Andrea? Io comunque ho massaggiato così, poi quando è intervenuta la squadra di pronto soccorso hanno, io chiaramente mi sono spostato, in quel momento ho liberato la scena e sono rimasto impressionato quando hanno fissato quello strumento, che poi ditelo voi come si chiama tecnicamente Lucas, comunque è una sorta di pistone che viene messo, lo dico a beneficio magari della platea dei meno tecnici come sono io, una sorta di pistone che viene applicato sul torace della persona che in quel momento è colpita dalla così e io quando ho visto quanto si abbassava il torace di questa persona con il lavoro di questo strumento, la preoccupazione di rompere anche una costola, vabbè hai voglia di schiacciare quindi un motivo in più per dire, vabbè però insomma mi ha fatto impressione perché lo scrupolo di tanta gente è, ma e se il rischio di far male effettivamente si abbassava un bel po'. E lì ci arriveremo infatti. Manuela Lavorato, quanto è importante a questo punto saper intervenire secondo te? Beh, buonasera a tutti intanto, è veramente bello vedere che tutti i posti sono occupati in una serata così importante beh è certo che è determinante, io vivo nel mondo dello sport, ci sono 20 milioni di praticanti in Italia di vario genere ovviamente, non stiamo parlando solo di tesserati, perciò 190 mila impianti di tutti i tipi piste di atletica, piscine, campetti, campi da tennis, perciò è incredibile pensare il bacino d'utenza che c'è nel rischio che si può correre facendo sport, ad esempio a me vengono in mente i master, nel mio settore l'atletica leggera sono una bella fetta, penso a quando fanno attività con il gran caldo e succede noi ovviamente durante le nostre manifestazioni, fidel regionale prima, poi adesso fidel nazionale abbiamo sempre obbligo di avere l'ambulanza e non vi dico quanti soccorsi ci sono soprattutto nei mesi più caldi, tachicardie, c'è perfino qualcuno che non si è ricordato di rinnovare il certificato agonistico, perciò è incredibile il lavoro che fa l'equip del dottor Vito Cianci posso anche dirlo con risorse magari a volte striminzite, perché insomma ci siamo trovati a parlare più e più volte di quanto la loro volontà abbia fatto la differenza, io faccio anche un complimento per questi video un po' casalinghi però che dimostrano veramente una grande, fanno un po' sorridere, sono efficaci, sono efficaci, insegnano ma si vede la passione e l'amore che mettono queste persone che credono veramente che si possa fare la differenza perché la differenza la si fa sul serio, non so io avrei reagito, a me non è mai capitato per fortuna casi del genere come il nostro Rossano che ha sicuramente secondo me un futuro anche medico però sì, io credo essere abbastanza certa che interverrei, però capisco anche le persone che hanno paura di mettere le mani, magari di causare maggior danni, questo tipo di informazione è veramente tanto efficace, perciò andate a casa, parlatene alle vostre famiglie, agli amici è davvero efficace, aiutiamoci tutti quanti, complimenti ancora Allora, visto che il tema è proprio avere coraggio di intervenire, buttarsi, abbiamo pensato di chiedere a due regbisti che sicuramente si buttano e hanno coraggio, partiamo dalla nostra atleta, avresti coraggio di buttarti e salvare una vita? Oppure buttarsi nella mischia una cosa e mettere le mani addosso a una persona che in quel momento non sai che cosa ha, è un'altra? Buonasera a tutti intanto, sicuramente magari non è nella mia zona di comfort però come hanno detto anche loro lo farei, infatti ho fatto il corso anch'io l'anno scorso, partecipato al corso che hanno fatto il 16 di ottobre e anzi spero e stiamo organizzando di poterlo fare sia col club che con le ragazze della nazionale perché penso che non si può mai sapere però potrebbe capitare a chiunque in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo per cui più gente è informata su come e cosa fare meglio è. Spingiamo la gente all'intervenire, bene, te la sentiresti? La domanda è anche per te, lei ormai è qualificata per cui non fa più testo. Non sono qualificato, innanzitutto penso sia un'iniziativa fantastica, voglio ringraziare i dottori anche di avermi coinvolto e penso che la cosa più bella che abbiamo fatto passare è che tutti quanti possono dare una mano a loro e vedere la passione che mettono loro nel loro nel lavoro nel salvare le persone, dare una mano alle persone e vengano a chiedere a noi un piccolo aiuto, penso sia un dovere di tutti quanti fare la propria parte, quindi per me è stato davvero bellissimo e sicuramente dopo anche i piccoli insegnanti, piccoli, piccoli grandi insegnamenti, non ho ancora fatto il corso ma sicuramente lo farò e penso che sicuramente interverei pensando ai dottori che fanno di tutto per aiutare la gente e vengono a chiedere a noi una mano, penso che sia obbligo e dover di tutti doverlo fare, quindi sicuramente lo farei, sì. Bene, ringrazierei loro con un applauso i nostri atleti per l'intervento, per la testimonianza, grazie di essere stati qua con noi e proseguirei con un altro tema perché quello che mi ha lanciato Rossano è anche dire ok io intervengo, schiaccio e non devo aver paura, ma quanto, quanto frequente e qui nel salutarli introduciamo il tema del ritmo, il ritmo. Chiamo con me Roberta Volpin e Davide Ferrario. Roberta Volpin è direttore pronto soccorso di Schiavonia e membro dell'Ordine dei Medici di Padova. È accompagnata dal compositore Davide Ferrario che invece è il chitarrista di Max Pezzali. Perché questo duo? Ce lo racconta la dottoressa? Probabile che, allora intanto ringrazio per l'evento, io sono cresciuta al pronto soccorso di Padova per 17 anni a pane Bortoluzzi. Chi conosce Bortoluzzi sa a cosa mi riferisco. Allora praticamente è da moltissimi anni che lavoro nell'ambito dell'emergenza, più o meno sono 25 anni e da sempre ho avuto l'idea di produrre, di fare un piccolo video in cui ci fosse una musica autoctona, definiamola così. Perché autoctona? Ce n'era una che non era autoctona? Da dove parte questa idea? Stain Alive. In America Seattle hanno cominciato 30 anni fa a dare il ritmo. Il ritmo era Stain Alive che aveva anche un'idea stai vivo e quello erano i 100 battiti al minuto. Cioè quando c'era l'arresto mettevano la musica per dare il ritmo della compressione. Esattamente, il ritmo della compressione è quello. Stain Alive era quello il ritmo. No, no, no. Sono una chitarra. Allora sì, per fortuna no, no vabbè. Quello era l'idea. Quindi l'idea era di creare un ritmo nostro. Avevo anche cercato un ritmo che potesse essere usufruibile da tutti, senza avere il problema della CIA e di tutte le autorizzazioni. Per cui poi sono andata a lavorare a Schiavonia, per cui Monselice, e lì per pura casualità ho incontrato Davide, che è un monselicense doc, che oltre ad aver suonato molti anni con Battiato, suonato con Pezzali, compositore, gli ho chiesto ma secondo te si potrebbe? Lui ha detto, ma sì dai, facciamo. A quel punto ha coinvolto, e vedremo adesso nel video anche, lui ha prodotto la musica, l'amico che conoscete tutti, che è Saturnino, che è il bassista storico di Giovanotti, ha partecipato all'esecuzione del video e l'Ordine ha permesso di fare questa cosa. Il video è un video fatto con una regista, per cui l'Ordine ha patrocinato e ha sponsorizzato questo tipo di video, che è un video adatto ai social, per cui deve essere per tutti, come diceva il dottor Paoli, il dottor Cianci, Bortoluzzi, tutti, la cittadinanza, chiunque, per cui deve essere diciamo capillarmente diffuso e per questo ringrazio anche l'Ordine per aver permesso questa cosa, l'Ordine che ci tiene anche ai defibrillatori, che adesso saranno messi anche davanti all'Ordine dei Medici, nell'Ordine dei Medici, per cui questa è stata la collaborazione. Aspettiamo il video. Centrale operativa 118, mi dica. Allora, eravamo al punto vittoria, e allora io lancio questa palla d'effetto, un bolide, e Mario che fa? La lascia andare. Provi a scuoterlo, Mario risponde, respira. No, no, frizzato proprio. Ok, è in arresto cardiaco, mi dia l'indirizzo, l'ambulanza sta partendo. Via dei Tgli 4. Iniziamo il massaggio cardiaco. Massaggio cardiaco? Metta le mani al centro del torace e prema forte e veloce. Con che ritmo? 120 BPM. 120 che? Le passo il supporto ritmo. Abbiamo un'emergenza ritmo. Mettimi in linea che gli do il beat. Comprimi il torace e tieni il tempo. Ricorda, chiama i soccorsi, ma non aspettare per effettuare il massaggio cardiaco. È importante, non esitare. Io vorrei ringraziare anche il compositore di questa musica. Grazie a voi, per me è un onore. Io ovviamente non centro nulla, non so nulla. Rischio di dire solo delle sciocchezze. Per cui l'unica cosa che posso fare appunto è ringraziare Roberta per avermi coinvolto. Saturnino che vi porta, cioè vi porto i suoi saluti. E niente, è stata un'esperienza divertente. Nel senso che io come tutti quelli che fanno musica elettronica, un po' così che vengo dal mondo dell'elettronica, della dance eccetera, sappiamo noi che i 120 bpm sono il ritmo del 99% della dance che sentiamo anche quando andiamo nella discoteca. Per cui a parte questa musichina carina che abbiamo fatto, la cosa importante secondo me è che uno visualizzi nella propria testa un pezzo dance qualsiasi famoso. E nel 99% dei casi c'è la possibilità che state facendo il ritmo giusto. da This is the rhythm of the night di Corona, gli Snap, a quello che volete, a Blue, degli Eiffel 65, qualsiasi roba, più o meno gira tutto attorno a quel ritmo lì. Per cui è una cosa anche abbastanza semplice, insomma. Per cui ecco, questo è il mio piccolo contributo e grazie a tutti. Grazie allora anche per questo contributo musicale, questo ritmo che ci hanno dato. Però, scusatemi, io sto ancora pensando a Federico Ruzza, l'idea che... Cioè, ha due maniche, io un po' di paura ce l'avrei. Quindi io chiedo, chiedo a Dottor Cianci, Dottor Cianci, ma cosa possiamo fare effettivamente? Cosa è l'ecito fare? E chi è che potrebbe darci una risposta in questo senso? Sì, certamente questo è uno dei problemi che domina la scena mentale delle persone. Io non voglio fare perché ho paura. Io ho paura di fare male, io ho paura di essere denunciato, io ho paura di fratturare lo sterno, le coste, di combinare guai. E allora abbiamo approfittato dell'occasione per chiarire possibilmente in maniera definitiva questo problema che ci attanaglia. Quindi invito qui cortesemente la professoressa Anna Aprile, direttore dell'unità operativa complessa medicina legale della nostra azienda, ospedale Università di Padova. Dottoressa Aprile, cosa è possibile fare? Cosa è legito fare? Non erano questi fatti, non ho una relazione, c'erano le domande del pubblico, però accolgo questo quesito. La domanda la facciamo noi? Non so, io immagino che qui tra il pubblico ci sarà qualche, non so, avvocato, magistrato, qualche esperto del diritto, per cui penso che potrebbero intervenire anche dal pubblico. Però da medico legale, io posso dire questo, stavo facendo i conti, io mi sono laureata 40 anni fa e ho iniziato a frequentare quindi l'Istituto di Medicina Legale dal 1983. Io non ho mai, mai visto un caso che possa essere riconducibile alla responsabilità di un soccorso per aver prodotto lesioni nel corso di un soccorso. Anzi, addirittura, ho avuto modo di occuparmi professionalmente di casi in cui, a fronte purtroppo di decessi, in cui sul cadavere sono state rinvenute fratture e il caso si dubitava essere riferibile a lesioni eteroinferte nel corso di una rissa, quando si è capito invece che erano dovute al messaggio cardiaco dei soccorritori tutti hanno tirato un respiro di sollievo perché hanno detto sì, può succedere e sicuramente non è un fatto che possa essere riconducibile la responsabilità. Quindi è pacifico, questo penso proprio di poterlo dire con assoluta sicurezza, che la rianimazione che venga condotta anche da persona non esperta e che possa produrre lesioni non dà certamente seguito a ipotesi di responsabilità perché si è agito nell'emergenza, nessuno pretende che siamo tutti esperti e quindi mi sentirei tranquillamente di escludere la circostanza di responsabilità derivanti da manovre incongrue. Piuttosto c'è da dire che la responsabilità può intervenire di fronte, non dico all'inerzia perché come diceva prima qualcuno non possiamo obbligare le persone a fare, l'obbligo di fare è dei professionisti sanitari, questo è pacifico. Certamente la responsabilità deriva da non chiamare perché la chiamata è un obbligo, l'omissione di soccorso proprio è un reato che prevede che in determinate circostanze non si presti il soccorso se siamo in grado di farlo o non si avvisi l'autorità. Lo diceva prima anche il questore, in termini molto più autorevoli di quello che posso fare io, ma non posso altro che ribadirlo. Grazie. I nostri due alfieri sono diventati timidi perché sono seduti. Prima abbiamo detto dovremmo tenerli tranquilli perché non si siederanno mai, correranno in giro per il palco. No, invece adesso sono qua. Andrea Bortoluzzi, dottore si avvicini, su non faccia il timido. Allora, io restituisco il microfono perché ho un altro quesito da porre. Chi sono le persone a rischio? Se dovessimo selezionare qualcuno come si fa? C'è nel senso che sono le persone a rischio qui dentro. Anche qua, visti i numeri che ci avete dato, siamo già tutti preoccupati qua. Esatto. Allora, abbiamo la fortuna di avere una persona che sempre per dire alla Veneta non se la tira, potendo solo permettere e che invito sul palco a parlare di alle persone che ha scoperto che possono avere dei problemi anche a età in cui uno non sospetterebbe e che ha scritto buona parte di informazioni per quanto riguarda il mondo, per quanto riguarda la morte improvvisa. Cristina, prego. Ma certo. Cristina Basso, direttore di patologia cardiovascolare. E' quella che fa anche le autopsie, quindi è l'unico medico da cui non vorrei andare. Grazie Andrea. E' mio compagno di corso, lui quindi aveva un conflitto di interessi, vero? Siamo da lo stesso anno. Allora, intanto buonasera a tutti. Il mio compito non è facile perché, come diceva Andrea, io mi occupo purtroppo di capire le cause dell'arresto cardiaco, che significa quando purtroppo non riusciamo ad arrivare in tempo. Non è semplice parlare di questo, soprattutto ai non addetti ai lavori, però in questi anni, e devo ammettere che questo è un lavoro che abbiamo fatto diciamo in team, chi viene proprio di me, che è il professor Domenico Corrado, mi seguirà e sicuramente rinforzerà più il concetto, si cerca di trovare, di trarre una lezione da questi eventi, che sono sempre meno, nonostante si dica quante morte improvvise ci sono, soprattutto in età giovanile. Se ne parla sempre di più perché le notizie oggigiorno diffondono velocemente, però non è aumentato il fenomeno della morte improvvisa nei giovani. Durante il Covid abbiamo avuto una serie di richieste dalla stampa, dai giornalisti, è aumentata l'incidenza del fenomeno morte improvvisa, prima perché c'era l'infezione, poi perché c'era la vaccinazione. Valle, posso dirlo, senza problemi, non esiste. Abbiamo dimostrato evidence-based che questo non è un problema legato alla pandemia, non è un problema legato alle vaccinazioni, il fenomeno della morte improvvisa rimane stabile, per certi versi è diminuito e soprattutto sono diminuite certe cause di morte improvvisa perché c'è la diagnosi precoce e la prevenzione. Il problema è chi fa diagnosi precoce. Ne parlerà, penso, dopo di me, Domenico Corrado. Una volta c'era la visita per la leva militare, era obbligatorio fare la visita ovviamente per il fare militare e era un'occasione per fare uno screening. L'unico screening che ci rimane di popolazione, oggigiorno è poco, è vero, è quello dell'attività sportiva, per cui, come dicevano prima i nostri campioni dello sport, c'è l'obbligatorietà della visita annuale, quello ti permette di fare uno screening popolazione, che purtroppo è poco usato, lo fanno solo gli atleti, peccato non poterlo fare a livello di popolazione, perché ti permetterebbe di identificare dei fattori di rischio, fattori di rischio, parliamo della disipidemia, parliamo anche di fattori di rischio legati alle abitudini di vita, al fumo, altre cose, che già quello, correggere quello, ti permetterebbe di fare prevenzione. Per cui abbiamo delle possibilità, vanno fatte nei posti giusti, perché non tutti sanno leggere bene un elettrocardiogramma, non tutti sanno fare prevenzione in maniera adeguata, e questo ci permette sicuramente di ridurre l'incidenza dell'evento morte improvviso. E' quello che questa lezione di questi tanti anni, che purtroppo è nata da chi è andato male, nel senso che non ha avuto la fortuna di essere animato, ma ci ha permesso di imparare molte cose. Quindi abbiamo fatto grandi progressi, ci rimane ancora strada da fare, però non guardiamo anche le cose positive, il bicchiere è mezzo pieno, non il bicchiere è mezzo vuoto. Quindi quando c'è la possibilità di capire di più, lo dico sempre, cerchiamo di capire di più perché può essere utile. Grazie professoressa. Grazie. Grazie. Grazie.